L'innovazione è nel DNA di Chiavich. Da tantissimo tempo noi lavoriamo principalmente su tre temi, che sono delle innovazioni al servizio dei clienti, delle innovazioni legate al prodotto, visto che vendiamo abbidiamento, e delle innovazioni al servizio dei collaboratori. Sul tema che affronteremo oggi, noi siamo effettivamente abbastanza avanti, secondo noi e secondo i nostri clienti, sul tema del servizio cliente. Abbiamo un sito di e-commerce che abbiamo sviluppato già dal 2009 in Italia, ancora prima su altri paesi, e offriamo i servizi che ormai per noi sono diventati classici, come il Click & Collect, quindi la possibilità di ordinare online e ritirare il prodotto nel punto vendita. Un altro servizio ancora più innovante è la e-prenotazione, in quanto non si paga, si scelgono i prodotti sul sito e si fanno consegnare in negozio, quindi si possono scegliere due, tre, quattro taglie per essere il più sicuro possibile, e si paga solo quello che si vuole acquistare. Quindi è proprio un servizio di prenotazione. Questo servizio l'abbiamo lanciato due anni fa ed è esploso totalmente, perché ha un grande valore per il cliente. Il fatto di non anticipare i soldi, di avere la possibilità di scegliere i prodotti, di completare l'esperienza digitale, l'esperienza web, con un'esperienza fisica nel punto vendita, e se magari andando ai camerini a provare e andando poi in cassa a pagare, gli scappa di acquistare un pezzo in più, ci fa solo che piacere. Per i clienti ovviamente è un servizio in più. Alcuni ci dicono, ma perché non l'avete fatto prima? Addirittura perché trovano in questo la possibilità di essere veramente più comodo e anche questi clienti che si approcciano più lentamente al mondo dell'e-commerce si sentono più sereni perché non devono inserire i dati della carta di credito, possono toccare il prodotto prima di comprarlo. Quindi c'è una sorta di accompagnamento per entrare mano a mano in questo mondo. Gli addetti vendita sono super entusiasti perché possono soddisfare il cliente sempre. Se non c'è il prodotto che il cliente era venuto a cercare, perché non c'è più la taglia, non c'è il colore disponibile, cosa fanno? Semplicemente tramite i nostri digital point presenti nei negozi fisici propongono di accompagnare il cliente a provare il servizio di prenotazione, ordinare il capo o farselo arrivare in negozio. Quindi per loro è una soddisfazione non rispondere il no terribile che chiude il rapporto con il cliente, ma poter proporre un'alternativa.